Mister, quanto era importante vincere oggi? Era importante perché ho detto ai ragazzi che oggi è una partita determinante, ma non per l'avversario, ma per ripartire bene e andare a questa sosta dove poi abbiamo la Coppa Italia e ripartire per il giro di ritorno. Adesso siamo nel gruppo delle prime quattro e credo che la squadra sia migliorata molto sotto il profilo caratteriale e nel giro di ritorno possiamo fare bene. Di solito quando c'è la Coppa Italia ci dice un po' anche purtroppo, ci spezza un po' il ritmo, invece in questo caso viene bene perché in qualche modo accorcia questa lunghissima sosta di metà campionato. Sì, viene bene perché ci dà la possibilità di lavorare bene fino al 18 intanto e poi andare a Milano col Milan comunque è una nota di merito e noi cercheremo di passare il turno proprio per dare un po' di significato in più alla stagione, perché poi la Coppa Italia è una competizione importante e più andiamo avanti è meglio è. Si torna adesso a parlare della partita di oggi dove si è visto un Verona che comunque ha giustamente approcciato in maniera prudente la partita perché questa serenità che aveva vinto 3-0 sulla spalla non lasciava tranquilli, poi nel secondo tempo c'è stato modo anche di dilagare. Sì, perché loro comunque venivano da una vittoria, erano casati, anche col Bologna hanno fatto una buona partita prendendo gol negli ultimi dieci minuti, quindi col cambio allenatore evidentemente hanno migliorato qualcosa, noi dovevamo avere pazienza nel primo tempo per poi affrontare un po' di più nel secondo tempo, intanto nel primo tempo abbiamo tenuto quasi sempre noi la palla, quindi abbiamo limitato i pericoli, poi nel secondo tempo è chiaro che siamo andati 20 metri più avanti per fare il risultato pieno. Faccio solo i primi che mi vengono in mente, da Dezzotti a Gemal a Nardi, ci sono delle risorse nella panchina di questa primavera che oggi non vedevano l'ora di entrare dentro, hanno messo veramente tantissimo cuore. Ma sì, ma infatti io ho una rossa di 28 giocatori, la metà sono 2001, che praticamente saranno la base per l'anno prossimo, quindi noi sotto questo aspetto stiamo lavorando bene perché loro già si stanno abituando a questo campionato, l'anno prossimo saranno la parte dominante.